benvenuti in questo nuovo video nel quale vedremo come entrare in google classroom l'argomento dunque sarà unicamente centrato su questa operazione entrare dentro una classe perché in successivi video vedremo come gestire la classe ed eventualmente assegnare dei compiti naturalmente entrare in una classe attraverso sempre l'account della scuola quindi chiocciolaliceosansepolcro.eu perché questo video perché classroom è forse l'applicativo in assoluto più utile per noi docenti di tutto l'ecosistema google questo serve essenzialmente a due cose a comunicare in maniera diretta con i ragazzi cosa che non fa spaggiari e anche a farli lavorare attraverso l'assegnazione di compiti che possono essere anche restituiti al docente spaggiari sostanzialmente mette a disposizione uno spazio dove erogare dei contenuti ma non permette la comunicazione bionivoca tra utenti vale a dire per lo più docenti e alunni quello che vedremo ora si può fare da computer e io ve lo consiglio perché è decisamente più pratico oppure anche da app il layout dell'app è essenzialmente identico al layout di quello che vedremo a monitor fermo restando che il form factor della app vale a dire quello rettangolare alto è diverso necessariamente da quello rettangolare orizzontale di un monitor ma da questa immagine vedete che l'app è disponibile sia per dispositivi ios quindi mondo apple che per dispositivi android allora usare ed entrare in una class room è decisamente semplice il primo passaggio è fare il login all'interno del nostro account chiocciolaliceosansepolcro.eu quindi per tutti i docenti che in questi giorni hanno avuto difficoltà ad entrare molto probabilmente mi sento di dire che l'errore che veniva fatto era quello di tentare l'accesso attraverso il proprio account gmail magari inavvertitamente quindi la prima operazione è fare log out dal proprio account gmail e fare login attraverso il nostro account chiocciolaliceosansepolcro.eu questo è il primo passaggio il secondo passaggio è richiamare l'app classroom per farlo occorre in gmail andare in alto a destra posizionarsi dove ci sono questi nove quadratini e richiamare dunque questo sorta di menu a tendina non è detto che classroom appaia subito ma in basso a questo troverete una scritta con altro cliccando la quale uscirà prima o poi anche l'icona di classroom cliccando quella saremo dentro la classroom se non vogliamo fare questo passaggio possiamo una volta fare il login anche andare direttamente al link classroom.google.com una volta entrati ci ritroviamo grosso modo di fronte a questa schermata si clicca dunque il più accanto qui vediamo il nostro nome utente nel mio caso vedreste onori punto emiliano chiocciolaliceosansepolcro.eu cliccando su questo più il sistema ci chiede se siamo docenti o studenti noi selezioniamo sempre docenti anche se fossimo studenti perché lo status di docente permette di fare altre cose che vedremo in altri tutorial quindi clicchiamo sul più stabiliamo di essere docenti una volta cliccato sul più ci chiede classroom se vogliamo creare un corso o iscriversi a un corso in questo video tutorial noi ci stiamo dedicando a iscriversi a un corso quindi delle due scelte noi sceglieremo iscriviti a un corso a quel punto verrà fuori un campo nel quale noi dovremo inserire un codice questo codice ce lo dà il docente è un codice breve alfanumerico univoco sensibile al maiuscolo e minuscolo quindi attenzione a quando lo digitiamo inserito quello siamo finalmente dentro la classe questo per esempio è l'immagine delle mie classi ho una prima liceo classico con tutte le materie latino greco media education una quarta con latino una seconda con latino e poi vedete questa era la classe trasversale della notte bianca della cultura classica e poi questa è una palestra di classroom che ho attivato proprio oggi per fare in modo che tutti i docenti possano vedere il funzionamento di classroom come se fossero studenti quindi possono vederlo dall'altra parte se volete partecipare a questa palestra di classroom mi contattate vi darò il codice della classe questo è quanto in un prossimo video vedremo invece come creare una classe ed eventualmente assegnare dei compiti e fare altre cose dal momento che nel nostro istituto ci sono utenti già piuttosto esperti su classroom vi chiedo di contattare direttamente loro e sono la professoressa polcri savini cesarini e polidori piuttosto che direttamente me quindi ripeto per quanto riguarda il supporto tecnico i colleghi di cui state leggendo adesso i nomi sono particolarmente esperti e vi potranno dare una mano in tutte le fasi di gestione della vostra classe virtuale ci vediamo al prossimo video